buongiorno benvenuti sul canale il mondo di mirò ieri ho acquistato il mio nuovo cellulare quindi ho pensato di fare di fargli una custodia io non amo molto le custodie quelle che vendono già diciamo quelle le classiche custodie che vendono per i cellulari a me piace molto essere sul personale sempre e quindi ho deciso visto che lo posso fare ho deciso di farmela farmela da sola per cui avevo questo filato che è molto chic è un filato nero e con le paillette per cui ho pensato ho detto perché no sarebbe molto carino fare un vestitino per il mio cellulare un vestitino molto chic insomma qualcosa di particolare quello che serve per questo per questo progettino io lo già lo stavo cominciando siccome tutto quello che faccio voglio condividerlo con tutti voi ho pensato detto adesso faccio il questo piccolo tutorial diciamo che non c'è niente sostanzialmente è semplice da fare non si altro che un pannello che poi viene cuscito sul retro del cellulare ciò che occorre fare è prendere innanzitutto la circonferenza del cellulare quindi prendete il vostro metro da sarta e misurate proprio per intero quella che è la circonferenza del cellulare a me esce che è 16 centimetri per cui ho avviato un numero di maglie che siano sufficienti a misurare appunto 16 centimetri per cui io ho avviato circa 45 maglie con questo filato e con i ferri del 3,5 che è un filato che si lavora appunto con i ferri del 3,3,5 ho avviato circa 45 maglie e non ho fatto altro che proseguire a maglia rasata a maglia rasata perché mi piace l'effetto elegante che dà questo filato è ovvio che qualsiasi filato andrà bene perché tanto non c'è un numero preciso di maglie quindi non ci sono multipli e non c'è niente quindi qualsiasi filato e qualsiasi ferro voi vogliete mettere siete liberi di farlo e qualsiasi punto anche io lo sto facendo così molto semplice l'unica particolarità poi sarà un bottone che metterò e quindi niente andiamo a lavorare lavoreremo finché non raggiungiamo all'altezza del cellulare quindi non appena noi arriviamo scusate all'altezza del cellulare possiamo intrecciare le maglie lo cuciamo sul retro però poi vi voglio fare vedere appunto il tipo di bottone che andrò a mettere e la solina che andrò a fare faremo insieme la solina per questa custodia allora io ho finito di fare il piccolo pannellino che l'ho fatto tutto a maglia rasata allora io vi dico i centimetri ovviamente ripeto questo è in base al vostro cellulare quindi voi non dovete fare altro che lavorare per tot giri fino a quando non raggiungete la lunghezza desiderata quindi in questo caso quella del cellulare il mio è circa 16 centimetri e va benissimo per quello che serve a me a questo punto io ho deciso di cucire non con l'ago ma con l'uncinetto quindi ho preso un uncinetto inferiore di numero inferiore rispetto a quello al ferro che ho usato mi trovo ho intrecciato i punti e mi trovo con l'ultimo punto dove invece di tagliare il filo ho inserito l'uncinetto e faccio giro il lavoro quindi lo piego dalla parte del rovescio quindi questa è la parte del dritto io lo piego dalla parte del rovescio e mi vado a cucire maglia per maglia quindi come se lo stessi facendo con l'ago ma lo faccio con l'uncinetto così evito pure di prendere l'ago il filo magari per chi come me non è bravissima con l'ago lo cuciamo con l'uncinetto e andiamo a lavorare tutto a maglia bassissima quindi prendo una maglia da questo lato e una maglia la prendo dal lato opposto e non faccio altro che andare a lavorare a maglia bassissima quindi esco e tiro cerco di sovrappormi bene i due lembi entro da un lato entro dall'altro pesco il filo e tiro entro da un lato entro dall'altro pesco il filo e chiudo a maglia bassissima faccio tutto chiudo tutto maglia per maglia cerco di fare dei punti abbastanza vicini in modo da non quando noi lo andiamo a mettere sul cellulare lui si stira quindi non si devono vedere dei piccoli fori quindi andiamo a chiuderlo tutto fino alla fine e poi chiudiamo anche la base quindi arriviamo qui facciamo magari due maglie basse nella parte dell'angolo e poi ci chiudiamo anche la parte della base e a questo punto la custodia è terminata dobbiamo andare a fare solo la solina che poi vi faccio vedere come farla perfetto io ho terminato di fare la bustina per il cellulare ho cuscito dalla parte del rovescio e l'ho rigirata sul dritto a questo punto andiamo a fare la solina la solina io la faccio con i ferri facciamo un tricottino un piccolo tricottino quindi sul ferro andiamo ad avviare quattro maglie avviate le quattro maglie andiamo a lavorare semplicemente quindi aspettate qui avviamo quattro maglie 1 2 2 3 e 4 maglie avviata le quattro maglie prendiamo il ferro di destra e lavoriamo semplicemente così una maglia dritto passiamo il filo sul davanti e usciamo una maglia a rovescio senza lavorarla riportiamo il filo sul davanti e usciamo una maglia a rovescio senza lavorarla e portiamo il il filo in posizione del dritto a questo punto dobbiamo fare così per tutti i ferri quindi la lavorazione è questa un dritto è un rovescio senza lavorarlo quindi passiamo la maglia a rovescio senza lavorarla un dritto e una maglia a rovescio senza lavorarla lo faccio rivedere anche se è semplicissimo qui un dritto e una maglia a rovescio senza lavorarla un dritto e una maglia a rovescio senza lavorarla quindi lavoriamo così per circa 8 centimetri sì perché dobbiamo noi poi agganciarlo qui in modo tale che poi andiamo a chiuderlo con un bottoncino cioè serve per prendere il bottoncino perfetto io a questo punto ho finito di fare il mio tricottino certo mi dispiace non si vede bene perché è nero con le paillette comunque è venuto molto grazioso anche anche di bell'aspetto quindi a questo punto io prendo il retro del quale che io voglio sia il retro del mio della mia custodia e cerco di posizionare il la solina in maniera che non venga troppo decentrato ovviamente quindi o che croce una la posizioniamo qua certo deve venire vediamo se non appoggio una non riesco ecco ecco e questo me lo sono cucito da un lato cerco di fare un punto forte perché comunque passo i fili entro il filo di lavorazione attraverso le maglie e mi vado a chiudere ok e questo è andato adesso cerco di mettermi ecco perfetto questa è la posizione che io devo andare a cucire adesso l'altro lato della mia solina ok eccoci arrivati alla fine la custodia per il cellulare è fatta è pronta è un lavorino di circa un'oretta e mezza si è messo insomma si è fatto tutto d'un fiato io avevo questo bottone è un bottone tutto di strass ho voluto renderla ancora più chic l'ho cucito e niente ho agganciato lo aggancio così e lo metto in borsa bene se il video vi è piaciuto cliccate mi piace iscrivetevi al canale se non l'avete ancora già fatto e azionate la campanellina per non perdere i prossimi tutorial arrivederci al prossimo tutorial grazie a tutti